92esima adunata nazionale alpini da Milano domenica 12 maggio dalle 17.30 alle 19.30 diretta della sfilata delle penne nere appartenenti al settore Lombardia di Valtellina e Valchiavenna domenica non perdere l'appuntamento con gli alpini 92esima adunata nazionale dalle 17.30 alle 19.30 diretta tv con tsn tsn la tv della provincia di Sondrio